Mister, partiamo dal secondo tempo, risultato di 4 a 1, tre golle in 20 minuti subiti dalla tua squadra, non era mai successo nel campionato, il massimo dei gol subiti nella partita erano stati due contro l'Arcianese. C'è stato un bel blackout, soprattutto mentale, poi forse anche un po' fisico, però dal punto di vista mentale siamo entrati in campo pensando che fosse già vinta la partita, invece abbiamo fatto cose allucinanti, però l'importante è poi essere riusciti a recuperarla, abbiamo trovato una squadra che ci ha messo tutto l'ardore agonistico, la voglia di fare bene, noi in difficoltà, però poi alla fine quello che conta è che abbiamo vinto anche oggi, che abbiamo più 13 sulla seconda, che siamo in piena corsa per la competizione della Coppa Italia, quindi questi ragazzi stanno camminando spediti da tanti mesi e quindi ci può anche stare una situazione del genere, dispiace perché noi non siamo sicuramente questi, a livello difensivo abbiamo fatto cose incredibili oggi, però forse è anche un bene, deve essere un campanellino d'allarme che ci deve far capire che se si entra in campo non si gioca da squadra, se tutti quanti stanno al pezzo diventa difficile per qualsiasi squadra, quindi ripeto, prendiamoci questa vittoria che comunque sia importante per la classifica, poi analizzeremo il perché e per come è successa una giornata di questo tipo e andiamo avanti. Ecco, e domenica in caso di vittoria e di sconfitta di Petrasanta si potrebbe finalmente festeggiare il ritorno del Ponzal con Serie D? Sarebbe bello a cinque partite alla fine, dimostrerebbe ancora di più quello che questi ragazzi stanno facendo, quindi vediamo, ormai i punti sono tanti, io credo che ci manca solo la matematica, però sarebbe importante anche perché poi ci potrebbe far gareggiare nell'altra competizione con ancora più tranquillità e vediamo cosa succede, certo è che bisogna essere sicuramente diversi da quelli che siamo stati oggi nel secondo tempo per poter vincere sia domenica e tutte le altre partite che rimangono da qui alla fine.